Alessio Bertaggia, un buon inizio e poi cosa è successo? Abbiamo, secondo me, giocato un buonissimo primo tempo, abbiamo avuto patinato tanto, abbiamo giocato il fisico, poi abbiamo preso quel gol del 2-1 poco prima della pausa, che forse ci ha tagliato un po' le gambe, poi però ci siamo un po' arenati nel secondo tempo che non possiamo permetterci, abbiamo giocato così tanto bene. Dopo non siamo più riusciti a recuperare, peccato, non è facile. Ecco, una sconfitta che fa male sia dal punto di vista contabile ma anche dal punto di vista del morale. Venerdì contro lo stesso avversario, cosa bisogna fare per uscire da questa spirale negativa? Il famoso detto di non mollare mai è sempre lì pronto. Credo che dobbiamo cercare di davvero non piangerci addosso, credere in noi stessi, credere nella squadra, nello staff, nella società e tutto. Una volta che riusciamo a fare questo, sono sicuro che le cose andranno molto meglio e io sono molto fiducioso.